Uè bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator Xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video commenta io la blocco no manco io c'è gente sotto f sono con te sono con te ho guardato la sua live da quattro ore consecutivamente grazie per sì 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 no no è giusto che muoio è giusto io non riesco a usarlo questo pump f se avessi delle armi norma abbiamo dei bits in palio f lei incomincia a pullarsi i materiali prende colpi di aeree servono studio shield ma oro capito perché ds che sempre ben fornito lui fruga nella scella al verme servito chi è che è una grana scella mi scusi scusi non conosce la canzone di sanpei sì ma non è così amica sua una canna fatta di la sera scata al pop arti o no gli e ben g e tutti gli altri andiamo allora facciamo una cosa che sto soffrendo ma vinciamo la sinistra ci rivedo a sinistra si ma in mezzo agli alberi odio fai d'armi morto uno 154 io non farei nulla torniamo a pantano quanti nati cittadini c'è una macchina ci stanno sparacchiando chi l'ha in fondo vero ma lei può passare davvero fio si sente sopra di noi niente sopra di noi no te lo dico io se ti aprono tu dimmi a me cosa succede sono sopra c'è uno qua distrutto morto uno il mio spaz f prendilo 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 venga qua venga qua venga qua venga qua ok perfetto dammi lo spaz vai troppo 4 dropper lascio dei big eh io posso ne ho già uno dove sono i flopper mi seguo mi seguo prendi i big lei eh no non procede big andiamo via via come ho fatto 2 2 2 6 6 po' per caso portarmi in big eh buona accetto venga ah no stanno muovendo venga mi seguo andiamo 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 valla che salgono valla che salgono non spari no no andiamo io ho il più probabile p che raggiunga che p no ma mi sembra che che buff mi vuole sto malato ci guarda tu asciugata venga a se venga a se veramente una spara tua venga sotto dietro morto il mio morto il mio il mio mi sta pushando sto soldando eh se è full vita lei venga qua c'è uno spaz da me e lo spaz go ver la 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 ho ammazzato quello là sotto scendi co***e scendi co***e terzo mese punto di rizzo su edere arrivo ora da scuola 97 craccato sta a pegola quello sopra xxv si non si faccia laserare si faccia un big no non devi ammazzare quello non devi ammazzare quello 42 la scatenata fedecarnio secondo mese della xxv sono due un saluto da nuovare anche a difesa sono con lei eh sono con lei qua in sotto la scatenata mia la cappella no 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 io non ti sto bloccando no non ti sto io non ti sto bloccando io ero via sono bloccato sul serio ti salvo ma vabbè secondo me era era il coso tagliato non vedo che tipo di bloccato lei è l'unico mica se c'è solo un team da due non è impossibile xxv può giocare di loft se riesce ad arrivare in endgame vince di pesci fatte le kill abbiamo no non prova non sprechi materiali rimi in safe camminando e sei pronto però a copersi non è là la safe non salga non salga non salga non so se c'è pochi materiali 1v1 stai sopra faccia attenzione fada bravo no no con calma non c'è fretta che si da un flopper è un proprio pesce con calma non spieghi tutti questi materiali salga sopra salga sopra ok va va non build non build non build usi le build adesso che te lo torna indietro ah non lo torna indietro ok rimanga qua sopra col pompa in mano non con lo spazio non così non con lo spazio a g francie sotto lineatura meko 0 7 ed in E' il primo clutch, Dick Shooter. Da quando gioco con lui. Sì, è il primo clutch. Dopo due anni e mezzo. Finalmente! Let's go!